industria e artigianato per il made in italy settore moda hai predisposizione per il lavoro manuale ti piace disegnare frequentando questo corso potrai acquisire competenze professionali ed operative splendibili nel campo della moda il diplomato in produzione industriale e artigianale settore moda interviene nei processi di progettazione lavorazione fabbricazione e commercializzazione di prodotti tessili di abbigliamento cosa imparerai a realizzare disegni tecnici e artistici utilizzando strumenti tradizionali e informatici a progettare e realizzare prodotti sulla base delle richieste del cliente valutando le tecniche di lavorazione i costi e la sostenibilità ambientale a realizzare e presentare prototipi fisici e virtuali a programmare macchine automatiche strumenti e attrezzature secondo le indicazioni progettuali e la tipologia dei materiali da impiegare al termine del percorso scolastico l'alunno potrà accedere a tutte le facoltà universitarie alle accademie e ai corsi post diploma di istruzione e formazione tecnica IFTS quali sono le materie professionalizzanti tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica tecnologia applicata ai materiali e ai processi produttivi tecniche di distribuzione e marketing progettazione tessile laboratori tecnologici ed esercitazioni storia dell'arte durante l'anno scolastico sono previste visite ad aziende del settore e fiere specializzate milano unica linea pelle partecipazione a concorsi legati al settore moda sfilate prospettive per il futuro inserimento lavorativo nella filiera progettazione e produzione di abbigliamento e moda possiamo aiutarti nella scelta vuoi saperne di più visita il nostro sito ti aspettiamo